Il gruppo riflessi con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria riparte con Mara Diva, abbigliamento donna made in Italy con ottima vestibilità, giovane, frizzante, elegante e in questo periodo promozioni fino al 40% di sconto con la Fidelity Card, accessori, bigiotteria, pelletteria. Profumeria Glamour, fornitissima delle più grandi firme, profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Gruppo riflessi, abbigliamento e profumeria con ampio parcheggio esterno, Via Mattine, Agropoli.